Ora è ufficiale, il Brescia è stato ripescato in Bisi, chiude la telenovela di ricorsi e contro ricorsi, ora testa al campo. Minorenni sfreggiano due coetanei per una cassa bluetooth, uno finisce in carcere, l'altro in comunità. Lo sfogo del sindaco di Flero è live sul centro di smistamento dei migranti, non sono complice, non li volevo. Tre giorni al Brescia Pride, il corteo sabato per le vie del centro, dalle 15, diretta su Elaina. Siamo una banca fatta di persone, per le persone. Abbiamo radici forti e solide, la fiducia dei nostri clienti è la nostra forza. Da oltre 125 anni, vicini a imprese e famiglie. BCC Agro Bresciano, sempre al tuo fianco, per costruire un futuro migliore. Buonasera dal telegiornale, dunque il Brescia è ora ufficialmente in Serie B, è stato ripescato, si chiude la telenovela di ricorsi, contro ricorsi, ora si apre il campionato di Serie B anche per il Brescia, non c'è altro a cui pensare se non al campo. Vi porto prima sul nostro giornale online, ma tra poco. Prima voglio farvi vedere invece il comunicato ufficiale, nel quale è pubblicato pochi minuti fa prima di entrare in diretta dal Brescia Calcio. E fra l'altro è un po' il caso di dire che il Brescia Calcio con questo comunicato polemizza con alcune testate giornalistiche. Adesso tra qualche istante lo vedremo insieme, dateci solamente il tempo di, vediamolo. nonostante quanto pubblicato da alcune testate online, data la sentenza odierna numero 06982 2023 messa al Consiglio di Stato, Brescia Calcio ne accoglie con grande soddisfazione l'esito. La società intende ringraziare il team difensivo nelle persone degli avvocati Presutti e Fenoglio che hanno seguito il lunghissimo caso in modo accurato e professionale e l'onorevole Simona Bordonani per il prezioso appoggio. La vita difficilmente offre una seconda possibilità. Noi, rappresentanti del Brescia Calcio, dobbiamo cogliere nel miglior modo possibile questa importante opportunità. Subito ho voluto darvi il comunicato appunto del Brescia Calcio. Sul nostro giornale online, in home, trovate anche la sentenza. Questa è la home di Eli Brescia.tv. Brescia Calcio in Serie B ora è davvero definitivo. Nell'articolo trovate la sentenza. Sulla notizia ovviamente torneremo poi nello sport anche con le reazioni perché ci sono state in questi minuti le reazioni della sindaca di Brescia, Laura Castelletti e del principale esponente dell'opposizione, Fabio Rolfi. Ne parleremo appunto nello sport. Ora invece voltiamo pagina, siamo alla cronaca. L'abbiamo ricordato anche nei titoli del nostro giornale. Di nuovo i minori finiscono sotto i riflettori, purtroppo per atti di violenza. Sono stati due minori che pensate hanno preso, sfregiato, altri minorenni, quindi altri ragazzi coetanei, per una cassa Bluetooth. Due minorenni sono stati arrestati perché ritenuti responsabili di una rapina avvenuta all'oratorio di Fiumicello. I due non si erano però limitati solo a questo. Avevano infatti anche sfregiato e aggredito le vittime dopo averle derubate di una cassa Bluetooth. I sospettati si sono dati alla fuga dopo il colpo. Sono però stati raggiunti dalle vittime che hanno cercato di recuperare il maltolto. I ladri hanno quindi reagito minacciandoli, aggredendoli con calci e pugni. Non soddisfatti hanno proseguito utilizzando come arma una bottiglia di vetro. Prima l'hanno rotta colpendo alla testa una delle vittime, poi hanno usato i cocci come un pugnale. L'aggressione è terminata con un ultimo accanimento ai danni di uno dei due giovani, che, riverso a terra, riceveva altri calci e pugni, minacce e sfregi su una guancia e sul collo. Rimasti soli, i minorenni hanno chiamato i carabinieri, denunciando l'accaduto. Una volta affidati alle cure dei medici, hanno ricevuto prognosi di 15 e 20 giorni. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere per il ragazzo classe 2007 e il collocamento in comunità per il classe 2006. Ha inoltre disposto la custodia in comunità anche per un terzo ragazzo minorenne, ritenuto complice dei primi due, ma attualmente irreperibile e quindi ricercato. La vicenda dei due operai finiti in un pozzo allonato del Garda, sono intervenuti e li hanno salvati i vigili del fuoco di Brescia. Vediamo esattamente com'è andata. Due uomini hanno avuto un incidente sul lavoro allonato nel primo pomeriggio. Sono stati estratti da un pozzo profondo 9 metri e hanno riportato alcune ferite. Sono intervenute subito le squadre dei vigili del fuoco che hanno recuperato i due operai. Per l'operazione sono state inviate tre squadre SAF, Speleo Alpino Fluviale, con autoscale e altri mezzi tecnici. I due sono stati affidati alle cure dei sanitari intervenuti con l'elisoccorso e ambulanze. Sul posto c'erano anche ATS e i carabinieri. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Bergamo e civili di Brescia. L'ultima pagina parliamo dei migranti. Andiamo a Flero con il sindaco del paese che proprio in occasione, e ne parleremo tra poco, della visita dell'assessore Tironi alle scuole del paese, colpite dal maltempo, è tornato sulla vicenda appunto del centro di smistamento con uno sfogo. Io penso che questa situazione sia una situazione un po' troppo amplificata e ci stia solo una strumentalizzazione politica da una certa parte politica, perché alla fine questo rifiuto da parte del capoluogo ha solo, secondo il mio punto di vista, di piccolo amministratore, una strumentalizzazione politica perché in questo momento non c'è un governo amico. Punto. Senti, ma l'impatto sul vostro comune com'è? L'impatto sul nostro comune, grazie alla Croce Rossa, ci tengo sempre a specificare ai miei cittadini che la gestione è totalmente in capo alla prefettura, perché la struttura era della prefettura, non era del comune di Brescia, perché sembrerebbe che quasi io sia complice. Io non sono complice di niente, non li volevo, me li sono trovati. Cerchiamo di gestirli al meglio, ovviamente, collaboro con la prefettura per far sì che i miei cittadini, la mia comunità non abbia nessun problema. Però problemi non ne avete avuti? Problemi non ne ho avuti, come le dicevo, il centro smistamento, che è quello che sta creando tutto questo sobbuglio, è in una zona produttiva e per il fatto stesso di come è strutturato, del fatto che arrivano massimo 25-30 persone, stanno 3-4 giorni e poi vengono smistati nei CAS. Perché io sostengo che è una strumentalizzazione? Perché il CAS ce l'ho sul territorio e mi creda ha più problematiche di questa struttura, però, come le dicevo, è un anno e mezzo che ce l'ho e nessuno è mai venuto a chiedermi quello che mi stanno chiedendo continuamente in questi giorni i colleghi sia della carta stampata che dei media. Ecco perché sostengo che è una strumentalizzazione. I problemi di migrazione c'erano anche prima, non è che sono scoppiati tutti adesso. È un gioco politico di una certa parte politica che vuole mettere in difficoltà un'altra parte politica. Io ho totalmente fiducia dell'attuale governo a cui la mia parte politica appartiene e sono sicuro che risolveranno e risolveremo i problemi. E quindi torneremo sicuramente sull'argomento anche perché gli spunti del sindaco di Flero sono particolarmente interessanti, soprattutto da un punto di vista politico. Torniamo sulla vicenda del parcheggio del Frecciarossa. Sapete che l'abbiamo seguita, la stiamo seguendo con grande attenzione anche perché il parcheggio chiuso significa dei disagi per le attività che sono comunque nella zona e per i residenti dello Skyline. Oggi, in occasione appunto di una conferenza stampa dedicata alle tariffe scontate per gli studenti, abbiamo avuto l'occasione di sentire direttamente dal direttore di Brescia Mobilità la situazione di riapertura. È una questione ormai di ore. Parcheggio Frecciarossa, avevate annunciato un'apertura imminente e ancora chiuso? Allora, oggi credo ci siano i collaudi e le certificazioni. Io sono abbastanza fiducioso, non so se oggi pomeriggio o massimo domani mattina il parcheggio, la proprietà del parcheggio riaprirà e quindi noi potremo rientrare in gestione. Stiamo già facendo gli approcci preliminari per l'apertura, spero proprio oggi, se non sarà oggi, sarà domani mattina. Parliamo ora invece di quello che avevo anticipato qualche istante fa riguardo all'iniziativa che torna anche quest'anno, scontistica per gli abbonamenti dedicati agli studenti universitari degli Atenei Bresciani. Una popolazione come quella studentesca dell'Università Rebresciana, fatta di 25.000 studenti, ha esigenze diverse, ha provenienze anche diverse e quindi in quest'ottica va l'agevolazione lanciata che risponde a diversi target, quindi di chi ha bisogno dell'abbonamento annuale e quindi ne fa un utilizzo quotidiano, pressoché il quotidiano del mezzo pubblico, di chi magari è studente, lavoratore, quindi si riega in un'università soltanto in determinate occasioni o comunque che frequenta poco e quindi abbiamo dei pacchetti multicorse per evidentemente esigenze più saltuarie. Per chi sceglie la nostra rete di bicimia, che devo dire ormai è particolarmente capillare e serve egregiamente tutti i poli universitari, delle accademie, eccetera, quindi di tutto il sistema universitario bresciano, rispetto al primo anno, era il 2015-2016 quando lanciamo questo pacchetto di agevolazioni, coprivamo sia e no 2.000 studenti abbonati annuali, quest'anno siamo arrivati a raggiungere più di 4.600 e ci auguriamo che nel nuovo anno accademico questo trend continui ad incrementarsi. Si cambia anche un po' la mentalità, arrivati ai 18 anni noi avevamo la macchina, quella era l'orizzonte, oggi insomma non c'è solo quella. Sì, in Europa è così e sta diventando così anche nel nostro paese, dobbiamo naturalmente aiutare questo cambio di mentalità, i ragazzi sono sicuramente più attenti, credono nella sostenibilità e quindi è importante che ai 18 anni non sia il momento della macchina, ma si possano usare gli altri mezzi e si possa gestire la propria vita in città o nelle varie località in maniera più razionale e più sostenibile. Per questo c'è questa iniziativa importante, con i partner di tutti gli enti universitari bresciani e con il Comune, lo sconto del 50% per gli studenti universitari. I numeri sono cresciuti, possono crescere ancora, noi crediamo che i ragazzi siano soddisfatti di questa iniziativa, la stanno usando bene e quindi avanti così. Parlando appunto del discorso scuola, ci sono state molte scuole, molti edifici che sono stati danneggiati in provincia, soprattutto dal maltempo. La regione Lombardia è intervenuta con un fondo dedicato a Brescia da 1.600.000 euro, oggi alcuni sopralluoghi dell'assessore Simona Tironi negli istituti della provincia. Stiamo lavorando in modo tempestivo e concreto per dare una risposta al nostro territorio che è stato messo in ginocchio dal maltempo. Il tour di oggi prevede un sopralluogo nelle scuole più colpite, ma soprattutto negli otto comuni della nostra provincia di Brescia ai quali è stato destinato un contributo a fondo perduto per la loro richiesta, insomma, urgenza di pronto intervento sugli edifici per garantire la sicurezza, ma soprattutto l'agibilità. Per noi questa era una priorità, il potere riaprire le scuole in tempo utile per il primo giorno di scuola, quindi il 12 di settembre, per permettere ai nostri studenti di iniziare in tempo bene, come sempre, l'anno scolastico. Per farlo abbiamo dovuto intervenire, mettendo a disposizione 6 milioni e mezzo, una parte presi proprio anche dal fondo di riserva, e più di 1 milione e 200 mila euro sono destinati solo alla provincia di Brescia perché è stata una delle province sicuramente più colpite. La situazione adesso è tornata alla normalità, anche perché siamo andati veloci, perché le scuole iniziano a breve. Dobbiamo ringraziare la Regione Lombardia, l'assessore Tironi per la sensibilità e la celerità sempre a aiutarci, aiutare noi sul territorio. Ultima pagina, tre giorni al Brescia Pride, appuntamento sabato 2 settembre, dalle 15 in Piazza La Vittoria, poi 15.30 il corteo per le strade del centro città. E live è media partner, noi trasmetteremo in diretta tutto l'evento sul nostro canale 181 delle digitali terrestre, ma anche sui nostri social. Siamo arrivati alla data fatidica del 2 settembre, come è stato organizzare il Brescia Pride? È stato un viaggio bellissimo, come dico sempre, ho avuto l'onore di guidare questo viaggio e non è mai stato un onere, anche perché è stata un'esperienza veramente orizzontale, dove tutte le persone che sono intervenute, che hanno dato una mano e che hanno contribuito, hanno potuto dire tutto quello che volevano e portare tutte le idee che hanno voluto. Quindi la bellezza di questo viaggio davvero è che si è creata una vera sfamiglia di persone che hanno collaborato e che si sono volute bene, che si sono sostenute e che continueranno a farlo. È stato faticoso, molto più faticoso di quello che chi guarda da fuori può immaginare. Non contiamo le notti insonni, non contiamo i chilometri e chilometri che abbiamo fatto per portare in giro i nostri eventi e tutte le persone che hanno collaborato con noi, però non voglio dire che lo rifarei altre mille volte, perché dopo un po' sono stanca, ma sì, lo rifarei altre mille volte. È stato potente, è istruttivo ed educativo ed è stato soprattutto un'esperienza di compartecipazione e coformazione tra varie realtà. Quindi abbiamo anche imparato tanto da chi ci ha aiutato in questo viaggio. Il film su Enzo Ferrari, quello girato anche in parte a Brescia, lo ricorderete, nelle scorse settimane, nei scorsi mesi, arriva a Venezia. La curiosità è davvero tantissima. Nei giorni in cui il centro storico di Brescia si era trasformato per la prima volta in un set di Hollywood, si parlava di poco altro. È passato poco meno di un anno dall'ottobre 2022 quando Piazza Vittoria era stata lanciata nel passato dalla produzione del film Ferrari diretto dal celebre regista Michael Mann e ora è giunto il momento della prima mondiale. Per il debutto è stato scelto un parco scenico di primissimo livello, l'ottantesima edizione della mostra del cinema di Venezia in cui la pellicola è in concorso. La prima assoluta riservata agli addetti e ai lavori sarà giovedì mattina, ma poi si replicherà lungo tutta la giornata nelle varie location del festival fra stampa e pubblico pagante. Bisognerà invece aspettare l'inverno per la grande distribuzione nelle sale di tutto il paese. I moltissimi avevano provato ad ammirare le starle al lavoro sebbene a debita distanza. I luoghi delle riprese erano infatti blindati con guardie in ogni dove e un rigidissimo protocollo anti-Covid. Era comunque stato possibile intravedere Adam Driver nel ruolo del Drake e Patrick Dempsey in quello del pilota Piero Taruffi. Non si era invece vista l'attesissima Penelope Cruz. Tanti bresciani avevano invece avuto l'opportunità di vivere l'esperienza di apparire sulla pellicola nel ruolo di comparse. Anche loro sicuramente non staranno nella pelle e vorranno scoprire se saranno in grado di individuarsi o meno sul grande schermo. Ci avviamo alla chiusura della stagione turistica 2023. Insomma l'estate è finita come cantava qualcuno. L'estate se ne sta andando. Ed è tempo per dare uno sguardo ai primi dati. Un primissimo bilancio sul turismo del Garda in questo 2023. La stagione estiva sta per terminare ed è tempo di bilanci. Regione Lombardia a tal proposito ha analizzato il numero di visitatori medi del lago di Garda nei primi mesi del 2023 che supera notevolmente la media del 2022 e ha inoltre notato un aumento della permanenza media. Nei primi sette mesi del 2023 sono stati 8.000 turisti stranieri in più rispetto al 2022 arrivati nei 21 comuni della sponda bresciana del lago di Garda che si conferma meta preferita dai visitatori provenienti dall'estero ha detto Barbara Mazzali assessore al turismo in primi tedeschi, olandesi, svizzeri austriaci, polacchi americani e inglesi. A crescere in maniera trasversale è invece il flusso legato ai pernottamenti che da gennaio a luglio 2023 crescono dell'8,1% rispetto allo stesso periodo del 2022. L'incremento riguarda sia i turisti italiani sia quelli esteri a conferma della tendenza che vede un aumento della permanenza media che passa da 4,1 notti del 2022 a 4,5 notti del 2023. Secondo l'assessore Mazzali questo sta a indicare non un turismo mordi e fuggi ma piuttosto la voglia di restare per vivere a pieno questo territorio. Arrivano inoltre turisti da tutto il nord Italia con Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Bolzano come prime cinque aree di provenienza dei turisti nazionali. Riguardo invece al turismo straniero calano del 6,2% i turisti provenienti dalla Germania ma grazie all'aumento della permanenza media che passa da 5,5 a 6 notti il numero di pernottamenti dei turisti tedeschi aumenta del 2,4% rispetto al 2022 continua la Mazzali. Un andamento analogo si evidenzia per i turisti dall'Olanda secondaria di provenienza del turismo straniero e per i visitatori provenienti da Svizzera e Austria che rientrano tra le prime aree estere di arrivo. Ci fermiamo qualche secondo e poi invece torniamo sulla notizia d'apertura del nostro giornale la notizia di oggi che è quella del Brescia che rimane in B anche con le reazioni. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e-live play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify Apple Podcast Spreaker e Google Podcast Riconoscimento speed invio denaro bollo auto fototessera fai tutto da Tom e Jerry tabaccheria.servizi a San Polino paghi i bollettini e prelevi contante paghi le tasse e i tributi o fai un bonifico Tom e Jerry facile veloce aperto tutti i giorni festivi esclusi in via degli Alpini 33 a San Polino Brescia Buona serata anche agli amici sportivi e allora il Brescia dunque rimane e anzi rimane in Serie B ma viene ripescato in Serie B forse è più corretto dire al termine di una telenovela veramente lunghissima anche oggi è stato veramente una giornata da frullatore prima la notizia insomma che era data per certa poi di nuovo messa in dubbio poi arrivata la sentenza insomma su carta scritta e quindi la certezza che il Brescia fosse stato appunto ripescato ci sono intanto vediamo allora com'è andata il Brescia calcio giocherà in Serie B dopo una lunga estate caldissima più nelle aule di tribunale che sul campo è arrivata la decisione definitiva niente più appelli il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso della regina che chiedeva di essere riammessa aprendo così le porte della cadetteria alle rondinelle ora manca solo il passaggio esclusivamente formale nel Consiglio della Federazione che dovrà ratificare la decisione presa dal Cds è stato un pomeriggio di attesa convulsa fra conferme indiscrezioni e smentite la sentenza era attesa dopo l'ora di pranzo e sembrava che in effetti fosse arrivata in realtà poi c'è stato un passo indietro fino a quando la sentenza è stata pubblicata poco prima alle 18 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sezione quinta definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto così decide si legge nel dispositivo rispinge il ricorso principale e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regione del Lazio parole che fugano quindi ogni dubbio e che riportano al Brescia in serie B dopo la retrocessione del primo giugno questo significa che con tutta probabilità già domenica si tornerà in campo per la sfida corsi e ricorsi contro il Cosenza in un arregamonte a porte chiuse prima si dovrà però passare dall'atto formale della ratifica da parte del Consiglio federale e da un mercato che con tutta probabilità sarà prolungato vi porto sul nostro giornale online per richiudere perché ci sono state le reazioni alla notizia quindi di poco fa Brescia che rimane in serie B Laura Castelletti sindaca della città dice potrebbe essere un nuovo punto di partenza andiamo insieme a leggere la breve dichiarazione accolgo con grande piacere la notizia della riammissione del Brescia in serie B l'auspicio è che questa opportunità possa essere un nuovo punto di partenza per tutti lasciando alle spalle le amarezze del passato e avviando una collaborazione costruttiva per il bene dei colori della nostra città auguro quindi al Brescia calcio e chiama questo sport di vivere una stagione ricca di soddisfazioni c'è stato anche il commento lo vedete di Fabio Rolfi esponente della opposizione è una bella notizia perché la giustizia è finalmente trionfato non c'è sport senza rispetto delle leggi e delle regole anche se il Brescia ha perso il campo in campo lo ha fatto rispettando le leggi hanno dichiarato i consiglieri comunali della civica di Fabio Rolfi sindaco alla luce del pronunciamento del consiglio di stato quindi la dichiarazione di Fabio Rolfi e Max Battagliola il dettaglio lo trovate sul nostro giornale online e qui trovate anche tutte le notizie che continuano ad aggiornarsi in tempo reale sul nostro giornale online e live Brescia punto di V la diretta del nostro canale 181 delle digitali terrestre e tutto trovate anche nella nostra app che potete scaricare gratuitamente da Apple Store o da Google Play grazie per essere stati con noi per aver scelto il nostro telegiornale buona serata e ci vediamo domani Grazie a tutti 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 Grazie a tutti